Durante la loro relazione sentimentale sarebbe stato lui un giovane ora processo a far girare in altre chat un video a sfondo erotico che privatamente gli aveva inviato la loro fidanzata, anche lei molto giovane, fatti che hanno portato il ragazzo davanti al giudice in tribunale. In aula nel corso dell'attività istruttoria è stata sentita come testimone un'amica della ragazza spiegato di essersi accorta del video avendolo saputo dalla madre. Le immagini infatti già circolavano pare in alcune chat. Inizialmente sembra che l'ex fidanzata e l'imputato avrebbe negato di essere quella nelle immagini, poi però lo ammise. Il testimone ha risposto alle domande del PM della difesa dell'imputato sostenuta legale Giuseppe D'Aleo. Altri testi sono previsti nella tita istruttoria in corso. In aula si tornerà a fine novembre appunto per sentire altri testimoni. La vicenda partì anche con un'attività d'indagine proprio a seguito della diffusione del video che iniziò a circolare su più chat e senza un consenso della ragazza, che a sua volta venne presa di sorpresa dalla notizia che appunto il video stava girando seppur fosse stato inviato soltanto all'allora fidanzato.